buongiorno ragazzi come va tutto bene spero di sì e oggi niente devo cambiare le lucine del del cruscotto praticamente queste degli strumenti sono bruciate questa è una twingo seconda serie e la cosa è un po complicata allora vediamo un attimo prima di fare tutto qui si vede già smontato tutto sto lavoro è bene disabilitare l'airbag lato passeggero che si trova sotto qua per disabilitarlo c'è una manopolina qui di fianco adesso una luce è poca non so se si vede comunque è quella che servirebbe se si mette un seggiolino per i bambini sul sul lato passeggero quindi si stack l'airbag per evitare che ci si scoppia in faccia se si fa qualche bischierata e poi bisogna cominciare a fare sto smontaggio perché praticamente le lucine sono dentro qua io avevo provato a cercare di accedere attraverso il cassetto porta oggetti ma non ce l'ho fatta non sono riuscito a smontarlo guardato un po su su youtube ho cercato un po di qua di là insomma il tutorial che ho trovato era questo allora come prima cosa la cosa più facile è togliere quella parte lì perché quella viene via molto semplicemente allora adesso i pezzi sono questi che sono degli attrezzi che ho preso su temo roba 23 euro e sono stati utili perché sono di plastica evitano di disegnare insomma la plastica della del cruscotto allora questa è la vaschetta che stava la è semplice da togliere viene tenuta con queste mollette quindi è sufficiente fare un po di leva tirare e questa viene via senza troppi problemi perché dopo dopo spiego il perché prima quella poi come seconda cosa bisogna togliere la palpebra che copre qua lo strumento ed è questa qui anche questa come si vede tenuta da queste mollette viene via relativamente facilmente certo bisogna tirare un po e fare attenzione perché ci sono anche questi piccoli montanti di plastica comunque anche questa viene via piuttosto in modo regolare ecco quella che dà più problemi invece è questa dove ci sono praticamente le bocchette dell'aria e il pulsanti questi di apertura e chiusura e delle quattro frecce questo perché allora sulla parte questa la parte sinistra cioè quella che praticamente rimane lì dove abbiamo tolto il primo pezzo viene via senza senza una volta tolto quello 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 sormonta questo e questa parte viene via abbastanza facilmente perché anche lei sotto c'ha le solite mollettine quindi ecco la parte un po più incasinata invece è questa cioè quella che sta sotto questa palpebra e sotto qui c'è l'airbag io ho provato a cercare di togliere sta parte ma ho una mezza idea che sia bloccato proprio assieme all'airbag non lo so sinceramente ho evitato di forzarlo per non rovinare l'airbag sotto e quindi è stato un po casino perché bisogna cercare di sollevare questa parte dove ci sono di sotto non so se si riesce a vedere dei dei ganci in plastica che finiscono dentro in queste cose qua quindi finché non si è liberata questa parte questa non viene via o meglio si riesce ad alzare da questa parte così perché il contorno è libero poi bisogna liberarla da questa parte una volta fatto questo bisogna togliere il questo comando qui e quello lì lo si libera praticamente ci sono credo che si vedano queste queste cose qui da dietro basta basta pigiarle e questo salta fuori è libero una volta fatto questo praticamente con un po di fatica viene via sto pezzo qua a questo punto il diciamo il posto dove si può dove si deve lavorare libero le due lampadinezze anche quelle non è se uno lo fa per la prima volta come lo stavo facendo io non è intuibilissimo quali sono e sono proprio qui dietro adesso cerco di fare luce prendo la lampada se ci riesco allora vediamo ecco lì si vedrà poco comunque sono due affarini neri che sporgono di poco da questo da questo chiamiamo l'oggetto qua insomma che è il coso dove stanno su i comandi adesso le due lampadinette ve le faccio vedere magari in fotografia così si può vedere le ho comprate all'anor auto ho speso due euro quindi spesa poco visto che adesso le fanno anche a in led però non l'attacco non andava bene perché sono fatte un po particolare adesso le vado a prendere e le vediamo ecco le lampadinette sono queste sono molto piccole e niente bisogna girare per poterle estrarre dalla dalla loro sede non so se siano logine o meno però insomma quando si cambiano meglio non toccarle se si riesce così magari durano di più si si estraggono e sono praticamente adesso prendo quelle usate fate così cioè con la baionettina si infilano dentro non hanno senso di voltaggio perché non sono led e si si estraggono e si mettono dentro quelle nuove adesso rimonto cerco di rimontarle al loro posto e poi magari vediamo dove dove sono ecco con la lampadina è quel cosino qui vediamo se riesco a farlo vedere quel cosino lì che spunta bisogna farlo ruotare di credo un quarto di giro e poi estrarla e per rimontare la stessa cosa è stato un po casino rimontarla sinceramente perché beh a parte bisogna fare attenzione a non farle cadere lì dietro perché è finita ma più che altro non facevano contatto quindi per rimontarle le ho inserite e girate diciamo verso destra cioè verso la parte del volante dopo un po di prove si sono accese va bene adesso viene il casino di rimontare tutto il tutto sto mestiere vabbè dai mi ci metto dietro vediamo cosa ne esce ok siamo ok ok siamo a questo punto qua mi manca di rimontare la palpebra sopra il qui la strumentazione e questa parte qui è un casino è veramente un casino rimetterla a posto anche perché lì sotto c'è sto airbag io non so come come trattarlo ecco a parte di la ma via che non senza nessun problema non ho capito perché non hanno fatto il contrario cioè anche dalla parte qui a destra si infila semplicemente sotto la linguetta e diciamo i fermi farli dall'altra parte che si può smontare molto più semplicemente boh cioè qui probabilmente per fare un lavoro come si deve bisognerebbe smontare anche questa parte qui dove c'è sotto l'airbag quindi cioè per cambiare due lampadine devi smontare mezza macchina cosa ti viene a costare boh vabbè se bruciano la prossima volta le lascio bruciate buonanotte va bene vediamo poi alla fine va bene dai rimontato tutto diciamo che è andato posto vabbè un lavoraccio comunque lo saluto a tutti ciao buonanotte